E' nullo il rigetto della richiesta di visto di ingresso Per motivi di turismo motivato sull'asserito rischio migratorio A tacere sulla formula di stile con cui si è preteso porre il rischio migratorio L'amministrazione non ha in alcun modo preso posizione Sulle argomentazioni adotte dalla parte Ben in grado di superare il fattore ostativo Quali la presenza in Italia di alcuni figli E la titolarità nel paese di origine Di redditi da pensione e di diverse proprietà immobiliari Grazie